ecco il link al mio canale twitch e alla mia pagina instagram per seguire gli aggiornamenti venghi fuori che ci fa lì? ecco d'è sto pesce? che me ne faccio di questo pesce? io lo butto qua dentro aspetta, no voilà non so cosa sia servito, ma qualcosa è servito è stato anche qua tu puoi passare tranquillamente no più che altro, magari era una zona da far dopo bellissimo, non ha visto che c'era l'acqua le tipiche prigioni con l'acqua ovviamente aia maledetto come te sei permesso oddio aiuto luigi tirami fuori di qui veloce veloce conmi luigi aiuto passa vai salvo e mo ve scorno io zappa volevano uccidermi volevano fare un luigicidio un luigicidio come mi chiamo io? luigi luigi aspettiamo si si aspettiamo aspettiamoci magari dopo si può passare dietro è certo tanto che ci siamo io posso passare dietro a posto vedi se ci è qualche cosa da cicciare magari di qua no aspettiamo che è ok no non sembra ebb ah ora torna indietro ok non sembra esserci niente possiamo andare avanti controlla te perché ovviamente è solo lui il birbante che può fare le robe passando da attraverso i goli niente non c'è niente questo questo sa che potevi passare anche qua in mezzo vero? ah non va eh infatti devo qua tirare no hop un'altra chiave se mi danno le chiave io vado avanti con le chiave alla miseria dove vai? esploda eh aspetta appunto mi sa che tira su qua allora io ciuccio vai giri sputi muova ok perfetto ok non ho ben capito il giro che sta facendo gira solo l'altro eh ho visto eh ma se io mollo no apri ah è vero allora dobbiamo trovare il giro giusto ah ho capito fermati fermati affanculo oh non ricominci a darmi le parole anche lei gommi luigi che le spacco tutto no 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 cazzo porca can niente tocca fare il giro se no poi ti ho fatto andare indietro col riflusso gastrico al contrario eh ma ti tu sta a te io sono nelle sue mani eh tec mamma mia corri 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 aiuto baci te eppure è caduto su e intanto che ci sei apri forziere la sinistra aia aia e che dolore mamma mia la schiena santo dio apri pure suelio dopo va a fare il giro anche là in fondo ovviamente perché se no cosa che cosa non la pago io a fare esatto diciamo più che giusto eh scusa dove è l'altro forse no non lo so magari fa il giro non si sa mai tipo là dietro a destra là ci stanno di soldi va avanti di lì di sotto se ciucci io avevo visto qualcosa di verde c'è una monetina che quella credo che la ecco perfetto mi tocca mi sa che devo andare avanti io giusto non so se lei può tornare sopra voilà ah vedi te non mi gusta molto questa zona devo essere sincero ecco appunto per quello fermati che ce la fa? ho fatto cadere altri altri pomidori carica il carretto continua a caricarlo aspettano no devi venire qua a tirare il carretto si lo so così io passo passo dietro vai vai ciuccia ciuccia no devi ciucciare soltanto carretto perfetto mamma mia il mio scudo ma no fermati dove vai non là dietro magari sono passato ah è vero sei un genio non c'è niente ma non c'è un cazzo no però no non c'è niente non c'è niente però c'è un pulsante no vai vai non c'è niente non c'è niente grazie che mi stai salva 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 questo qua adesso mi fa i tre anelli e mi fa ammassare oh non va perché non va oh dio è vero ah c'è un altro carretto ah ah perché devi far passare io devo spingere poi no il carretto e farlo cadere lì muovi le ruote guarda se posso riuscire a spostare le ruote basta il portale dimensionale e trasformerà un carretto visto che genio ciuccia 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 le palle vai vai manca una dietro di te sopra ok perfetto adesso molto adeguatamente me la avvicina così io li butto addosso i cosi ah no blocchi e basta venghi venghi occhio non so ah no autoschiazzarti perfetto ah ah aiuto oddio quanti nani a volte ve ciuccio tutti ve ciuccio tutti adesso ci sarà sempre l'ultimo che ci farà danno oh e invece no e no siamo bravissimi boom però questi soldi qua io sinceramente non li lascerei secondo me invece c'è qualcosa qua ma proprio sto cacchio proprio qua eh no cuccioppo no era troppo semplice era troppo semplice sì aiuto perché sempre queste cose no devi prendere quello e tirargliela all'allero mi sposto un attimino sa perché dicendoci che ci sono queste lanci assassine io non vorrei fare una brutta fine porca caccia la miseria che io non so sono ancora giovine mio fratello è in là con gli anni proprio non c'è problema se volesse anche rimanere come dipinto a me non è che cambi molto moneta moneta giuccia giuccia le monete bello il cuoricino qua sotto sicuramente c'è qualcosa di grosso infatti eh eh chiacchio oh eh sì prima andiamo qua dentro assolutamente è una porta segreta hai trovato la sala del tesoro del maniero misterio giuccia menton in totale eppure la roba verde no aspetta ok non è che possiamo giucciare altre cose far cadere di qua di là no a posto oh si è preso un po' di soldi e beh quelli fa sempre comodo eh ok tiro 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 eh qua secondo me adesso dobbiamo fare i giochi del maledetto misterio oh 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 my hello hello oh 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 aiuto li giochi na mira neanche il dello stor di sa che dobbiamo ciuccia co co ciuccia co co ciuccia 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 dove ha chi è andato ah ok ciuccia lo scudo no eh aiuto dio vedi che lo scudo diventa brillante una volta che lo fai con il ci fa carichetta aiuto no ma ha preso maledetto ahia che botta meno che indiscitivoso come faremo ad uccidermi la minghia ma ha preso sotto sto spustumazio maledetto no dobbiamo riuscire a ciucciargli il coso scudo in un modo o nell'altro me vedo adesso io sto solo beccando te tra l'altro non so se ne venga conto guavi aspetta ciucciamento sei pronto mio gomme luigi te ciuccio da sotto via fuga ok proprio tappettato sotto con una tranquillità proprio mamma mia ma come hai fatto a farlo capire no lo come si dice aia l'allero l'ho azzeccato poi ho tirato il coso vai vai tira tira tiri tiri aiuto certo magari non addosso a me ecco con tutte le zone che ci sono dico io gli stiamo distruggendo via certo adesso dire che c'è un cavallino è un po' una cialponi ecco cialponi occhio aiuto le frecce maledette lanciate ti vuoi fermare villano oh sei pronto ciappa oh no mi ha preso il volo vai oh oh il re è caduto esatto vai vai ciuccia 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 aiuto aia mi ha detto risplende i colpi no così no no aiuto io tenterei anche tipo da dietro aia non c'ho più neanche il coso uh vai non si sa come hai fatto ma ce l'hai fatta che hai girato ah ok ah ok ma devo aspettare che ci zilli si devo aspettare le soldi le soldi le soldi e devo stare a te ok no io sto lontano fatti lei no fuca 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 vabbè adesso lo ciuccio io maledetto il re di questa zona sono io ma una volta che lo ciuccio io esatto finalmente porca miseria arrivederci anche un cuoricino oh quattro bella madonna prendi ne li prendo tutti pure i soldi giuccia tutti i soldi proprio tutti tutti non ne deve scambare uno esatto via puliamo tutto puliamo tutto oh e adesso posso prendere il pulsante numero uno sette sette uno se l'uno abbiamo già fatto l'uno dici l'uno l'hai già fatto e che ne sono è il primo stai calmo stiamo andando su di graduatorio no mentre qua adesso stiamo che è successo no è uscito ah stiamo salendo nell'anfitrione fermo non ci sta niente ci sto fermo i soldi e questi qua oh ehi e questi soldi si quando mai abbiamo preso quella questa qua ah ok mi sembrava strano fermo fermo la bandiera la bandiera la bandiera ciucci 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 dovremmo riuscire anche a rompere sti cosi mi sembra qua dovremmo prendere tipo qualcosa ah le angurie dobbiamo prendere le angurie e tirargliele addosso ah dove sono le angurie prendi le tori di là di là guarda ci sia qualcosa però se andiamo qua davanti c'è un cosa per passare questo qua è la bandiera qui adesso gli tiro addosso o cocomero tu prendi l'anguria ah se mi sparisci fai che cacchio ho preso io una torta tira te la prendo sbao adesso me la tiro addosso a me sicuramente mamma mia che mira non ho sentito niente però diciamo che è sempre meglio controllare ecco esatto giù di qua giù di qua giù di qua ma proprio giù di qua come dice un suo un suo grande amico amico nel dubbio premilo e infatti scusate nuova zona completata andiamo a mettere il nuovo coso come si chiama il nuovo pulsante pulsante ecco vedi che c'era la porta vedi che c'era la porta ma sarò in disordi secondo me c'è qualche zona contrassegnata no secondo me però c'è anche qua permesso di qua 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 di qua dici no mi sa che comunque era passaggio sotto apposto nuova zona completata no dai che ti faccio uscire io sto qua di un come si chiama del re che se la credeva aspetta mi devo spostare se mi petti sotto vieni fuori anche te gommi luigi anzi faccio prima io ero già dietro di te nuova zona completata e nuovo tastino il numero 7 non vediamo non vediamo non lo so non sono sicuro 7 è l'1 ma vai 7 scusa se l'aveva preso in piedi a me sembrava un 1 perché era storto mi scusi ma non lo so camere botaniche ti piace botanica tu sicuramente hai pollice verde capito no perché sei verde quindi ahia ma io mi merito questo da te ma che starto schifoso finirà la tua assistenza e dopo ti ributto nel whirlpool 2000 e ti metto nell'armadio occhio che ci sono come si chiama la pianta pipino piragna esatto che posto sarà mai questo via ecco cerciamo subito tutte le cose che ovviamente dovete sapere ricordatevi sempre che i topi le colombelle i ragni anche i vandali lo spacca anche i fiori e le piante sono piene di soldi giusto? esatto giusto io sto spaccando un po' i fiori è che sto facendo io se bisogna essere dei vandali bisogna essere dei vandali fino in fondo il calcio del pallone è il fobel è il fobel spara là addosso al come si chiama qualcosa lì il lampadario lo ragno del fuoco d'oro cioè aspetta oh spara pure qua bravo così mi piace così mi piace schiavista schiavista se sei il mio assistente lo sarai per un motivo stiamo qua a aspettare la mira non mi ha fatto fare neanche un tiro cuoricino prendilo lì è lui è Ronaldinho si muove sulla fascia è lui è Roma il tiro è Roma orca miseria orca lo tribla e mi ha falluto calma aspetta non entra orca la miseria oh parata maledetto il pallone è tuo e torna a casa vediamo se c'è qualche quadro strano ha un fatti ha un fatti schiavista prima gemma va là intanto c'è anche l'ultima va beh fa un po' tè va beh aspetta qua bisogna attacca il girasoli bisogna dargli la luce eh certo non vai lì qua? si no ma stavo guardando di qua apri la porta ma che porta? ah non è una porta è una finestra aia ci sono i topi l'ho visto? no è una finestra una finestrella il cuore qui maledetti cuori che saltano fuori a caso ci servirebbero dopo facciamo tutto ciacciabile lo cacchio sei finito sono qui eh no perché essendo verde poi diciamo che te mi metisi cacchio cacchio de topo penso che potevano passare anche un attimino col tosa erba dico io eh ci potevo mettere a posto del soffiatore ah facciamo prima fare il doppio fiume vada bam mamma mia hub eh oh subito il pulsante ah che questo droga va a luchar lì si se subito il pulsante ah ah non puoi prenderlo devi aspettare il prossimo episodio tiè